Ciao, sono Francesca e sono iscritta al corso di marketing e internazionalizzazione d'impresa. Perché ho scelto un corso di S? Perché è un'ottima alternativa post diploma. Le lezioni hanno un approccio sia teorico che pratico, questo soprattutto grazie ai docenti che sono professionisti del settore. Il punto di forza del corso? Sicuramente le 300 ore all'anno passate in azienda. Io ho fatto due esperienze in due realtà completamente diverse. La prima in una piccola azienda molto innovativa, la seconda in un'azienda invece più strutturata. Grazie ai tirocini si può mettere in pratica quello che si è imparato in aula. Ti aiuta a capire la figura professionale che vorrai ricoprire in futuro. Io per esempio vorrei lavorare nell'ufficio marketing di un'azienda.